Il Paradiddle partendo da zero. Il Paradiddle è uno degli rudimenti più importanti per i batteristi perché è composto da colpi singoli e colpi doppi insieme. Per prima cosa dobbiamo partire con due colpi singoli fatti da mano forte e mano debole. Successivamente andiamo a inserire il doppio colpo, questa volta con la mano forte. Questo lo chiamiamo Paradiddle perché i due colpi singoli sono PA e RA e i colpi doppi invece sono i Diddle che si assomiglia un po' perché la sillaba comincia con la stessa lettera. Paradiddle. Adesso per continuare andiamo a fare la stessa cosa ma invertita quindi partiamo con la mano sinistra. Il Paradiddle sarà una volta in un modo una volta invertito, una volta in un modo e una volta invertito. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando commenta, lascia like, iscriviti e tutto quanto. Fammi sapere se ti piacciono queste tipologie di video su Pad e dai un'occhiata anche ovviamente a tutti gli altri video e se questo rudimenti ancora non ti è ben chiaro. Riguarda il video per che ti spiego